Cinque anni fa nessuno mi conosceva, quindi c'è arrivato un ragazzo giovane, un po' diciamo biondo, come dicono tutti, e basta. Adesso c'è un'altra persona, mi sembra. Diventi grande a Perugia, sei arrivato a che eri un bambino. Sì, è diventato, mi sembra, più bravo giocatore, anche come persona, ho iniziato a parlare italiano qua, quindi è diventato papà, c'è tante cose che è successo prima volta qua in Perugia, quindi significa che sto bene qua, mia famiglia sta bene, mi sembra che anche i tifosi di società mi fidano e quindi mi danno quella opportunità che posso rimanere ancora. Con tutti gli allenatori che ho allenato io ho preso qualcosa da ogni uno, quindi ho esperienza come un giocatore di 35 anni, ma con allenatori dico, non come giocatore ancora, quindi ho preso qualcosa da ogni uno e mi aiutava questa cosa. Adesso è più facile di sistemare cose quando ci arriva il tempo difficile o qualcosa, e soprattutto adesso con Angelo abbiamo trovato un buon contatto e mi sembra che chi ci vede fuori, anche quella cosa dà fuori, scusate. Io sono venuto qua l'anno scorso come panchina, dopo il successo, lo che ha successo ho preso il posto di titolare, ma io sapevo che questo anno era ancora uguale, visto che cambiavamo di allenatore, anche qualcuno che altro giocatore. Wasin è uno dei tre posti con cui ho giocato, mi trovo molto bene, parliamo tutti i giorni a posto, ma lui si adatta meglio al gioco di Lorenzetti, quindi io sono al mio posto tranquillo, aspettando. Non è un problema, alla fine è il lavoro, giochiamo tutti, può vincere e quindi è così.